ciao ragazzi bentornati sul mio canale allora questo video lo dedico in particolare a una mia iscritta siccome ho fatto il video spacchettamento quello la di campagna 2 dove avevo mostrato questi tre smalti però non avevo aperto la scatolina e mi è stato diciamo detto che si aspettava che io aprivo le scatoline per mostrare il colore dello smalto siccome che ci tengo molto a voi iscritti ho pensato di fare un video dove aprivo gli smalti così da accontentare sia lei che magari anche qualche altra persona che è curiosa di vedere di che colore sono allora andiamo a vedere subito questo questo va beh lo sapete non ha nessun colore e serve semplicemente per andare a rinforzare lo smalto quindi è trasparente eccolo qua è veramente bellissimo ve lo consiglio ottimo quindi lo dovete passare sopra il vostro smalto che utilizzate quello in gel qualsiasi per fare in modo che il vostro smalto non si va a sfaldare subito e lo protegge e quindi avete il vostro smalto preferito che dura veramente molto più a lungo e questo costa sui 2 e 99 la cliente ha preso anche questo qua che lo smalto mark gel il colore è questo e adesso lo apriamo eccolo qua guardate quanto è bello a me piacciono molto questi smalti avon soprattutto questi in gel perché durano veramente tanto e si asciugano molto rapidamente io utilizzo anche però il prodotto quello la spray asciugasmalto che è veramente un prodotto avon top che oramai non ne posso fare più a meno poi vediamo il terzo è un video breve però ci tenevo ad accontentare la mia iscritta andiamo a vedere anche questo colore qui e questo è nero anche questo è bello guardate se ci fate caso all'interno ha dei brillantini quindi non è un nero semplice guardate penso che si riesce a vedere molto molto bello questo da provare subito ragazze comunque gli smalti avon costano di solito intorno ai 2 99 e sinceramente ha un buonissimo rapporto qualità prezzo lo dovete provare io ho provato anche quelli della color trend però devo dire che per il problema che tengo io del delle unghie che ci vuole tempo per asciugare lo smalto preferisco questi questi in gel e anche quelli normale però l'importante che sono questi tipi qua e che poi alla fine non è che costano così tanto e poi utilizzo il top coat questo qua da mettere sopra e poi lo spray asciugasmalto che dire spero che questo mini video vi sia piaciuto di aver fatto felice la mia iscritta meno per far vedere cosa c'era all'interno di queste scatoline e noi come sempre ci rivediamo in un prossimo video sempre con novità avon ciao a tutti ragazzi